La schiotta non è stata bene all'inizio della settimana, poi c'erano stati dei problemi per cui adesso devi un attimino decantare un po' di cose, ma niente, tutto qua, non c'è, non si è allenato, è stato poco bene all'inizio, stava meglio a fine settimana, però la luce di quanto è accaduto per lasciarlo anche tranquillo, eccetera, eccetera, anche perché la società, ve l'ha detto Marino, deve riflettere su e andare bene a conoscere meglio la questione, perché ora ci sono due campane, quindi poi una volta fatto il tutto si prenderà una decisione, queste sono cose societarie. Mi dispiace perché pure questa settimana si è continuato a parlare dell'Atalanta sempre per motivi extra, insomma, invece di mettere in risalto le buone cose che nell'anno solare sono state fatte, però non fa niente, dai, ormai la cosa anche questa è andata in, sta terminando, insomma, pensiamo alla partita che è la cosa più importante. Contro la Juventus, insomma, è una partita che va un po' ormai alla storia. Mi dispiace perché nel primo quarto d'ora, secondo me, non eravamo partiti neanche tanto male, arrivavamo, insomma, lì, è vicino alla porta, è stata una partita un po' strana, dai, una partita un po' particolare, già è difficile con la Juve di per sé, perché comunque, ripeto, se anche fai una partita straordinaria, prima o poi loro qualche problema te lo creano, figuriamoci poi se dopo un minuto sei sotto, insomma, però tutto sommato l'atteggiamento non era neanche sbagliato, comunque, poi il secondo gol è stata una bella mazzata, il terzo non ne parliamo, c'è stata un po' l'espulsione, vedremo, insomma, tra oggi e domani, è chiaro che qualcosa dovremo vedere, insomma, ragionare e vediamo quello che è stata poi. Ma può essere Raimondi, è il suo ruolo, insomma, Raimondi è un terzino adattato più che, nasce in quel ruolo, quindi potrebbe essere lui, potrebbe essere qualcun altro, insomma, non è che ci abbiamo tantissimo, onestamente, in virtù del fatto anche che si è affermato Ferrera Pinto per un problema agli addominali, quindi non è che ci abbiamo tantissimo, però, insomma, qualcosa la tiriamo fuori. Beh, l'Udinese è una squadra che sta lì, insomma, è una squadra che negli ultimi anni è viaggiato sempre nell'alta classifica, quest'anno chiaramente, avendo ceduto dei giocatori molto importanti, senza che ve li sto elencare, insomma, ma se mi riferisco a Isla, Samoa, eccetera, eccetera, è chiaro che può aver perso qualcosa da un certo punto di vista, però è sempre una squadra molto, molto difficile da affrontare, perché è una squadra che il grosso gioca insieme da parecchio tempo, c'è un allenatore molto bravo, una squadra che corre, che lotta, insomma, e che comunque sta facendo il suo campionato, perché sta comunque facendo un gran bel campionato, perché ha 23 punti, quindi è una squadra da tenere in grande considerazione. Grazie a tutti.